Oggi giornata di Consiglio Comunale all'Aquila. Il tema delle scuole però nel primo giorno per alcuni istituti continua a tenere banco con le opposizioni che hanno riportato l'argomento al centro dell'assise civica. Il PD in una lunga lettera ha evidenziato ancora una volta la mancata ricostruzione delle scuole. Per loro il sindaco, anziché augurare buon anno, avrebbe dovuto invece chiedere scusa perché a 14 anni dal terremoto la maggior parte degli studenti va ancora a scuola nei MOSP. Sei anni e mezzo fa, ricorda Nidem, il sindaco aveva assicurato soluzioni immediate con soldi che già sono in cassa. La realtà è che solo due scuole sono state inaugurate. Lacune poi nel piano di edilizia scolastica che avrebbe dovuto indicare chiaramente dove si ricostruiranno le scuole e poi la mancanza di scuole in centro nella programmazione che non sono previste. E poi altri problemi nelle frazioni per i servizi minimi ma anche per docenti e personale ATA. Non è l'unico problema, le opposizioni denunciano pure il caro scuola. Una stangata per libri e accessori. Rincariche vanno tra il 7 e il 15%. I libri, per esempio, sono a carico dello Stato solo alla primaria, non alle medie e superiori. Il Comune permette, grazie al fondo istituito dai governi di centro-sinistra, ricordano, di accedere a parziali contributi in base a dei requisiti. Per le opposizioni bisogna fare in modo che tutte le richieste vengano soddisfatte e l'ordine del giorno del consigliere PD Stefania Pezzopane va proprio in questa direzione. Da oltre sei anni al governo della città le scuole non sono state ricostruite, nonostante abbia fondi, deroghe, tutto ciò che i governi di centro-sinistra gli hanno messo a disposizione. E poi c'è il problema del caro libri, che è un problema nazionale, ci mancherebbe, ma che all'Aquila possiamo affrontare. Perché se un Comune trova 700 mila euro per un palco, per qualche concerto, evidentemente può trovare un po' di risorse, come noi chiediamo con un ordine del giorno per il Consiglio Comunale, per aiutare le famiglie, sia quelle più fragili, ma anche il mitico ceto medio che si è impoverito dopo la pandemia e dopo questa inflazione mordente che purtroppo viviamo. I libri sono aumentati anche del 15%, gli stipendi no, e quindi bisogna supportare le famiglie, anche modernizzare i testi scolastici attraverso il digitale, ma fornendo le scuole di strumenti appropriati su questo, sulla scuola che per noi è una priorità, continueremo a batterci.